Il monopattino Nilo X-Doc 10 ha un motore molto performante rispetto alla struttura del monopattino. Il motore da 350 W conferisce una ottima potenza al monopattino elettrico Nilo X-Doc 10. La velocità massima di 25 km per ora rispetta la normativa europea. Si può limitare la velocità attraverso il cruise control nel display del monopattino elettrico. Prima di continuare vi invito a mettere un like e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video sui monopattini elettrici. La potenza del motore offre al guidatore la possibilità di percorrere salite con una pendenza elevata senza problemi. La batteria agli ioni di litio da 7,8 A rappresenta una soluzione nella norma, si ricarica in 5 ore ed ha un'autonomia di 30 km. Eseguendo la manutenzione della batteria sarà possibile utilizzare la stessa per circa 1000 cicli senza perdere autonomia. Se si vuole aumentare l'autonomia si può aggiungere una batteria secondaria nel bauletto porta oggetti posizionato sullo stelo del monopattino. In descrizione trovate il link per visualizzare il video per il montaggio della seconda batteria. La pedana molto larga, aggiunge stabilità durante la guida, il manubrio da bicicletta lo rende più facile da controllare. Le ruote con camera d'aria da 10 pollici superano qualsiasi ostacolo su strada come dossi o piccole buche. Il peso che non supera i 15 kg non appesantisce la guida e non appesantisce il trasporto quando il monopattino viene trasportato a mano. La sicurezza del monopattino durante la guida è stata migliorata con il doppio freno a disco che ne moltiplica la sicurezza. La mancanza di freni elettrici aumenta l'autonomia del monopattino. I WP freni a disco funzionano davvero alla grande e garantiscono frenate molto ben bilanciate e in spazi molto brevi. L'illuminazione del monopattino per dare visibilità durante le ore notturne viene fornita da un faro LED anteriore posizionato sopra la ruota e da un faro posteriore che si accende quando il guidatore azione la leva del freno. Le ruote hanno una fascia fluorescente che aumentano la visibilità su strada. Per ulteriori informazioni consultate il sito supermonopattino.it